Dopo i primi tre appuntamenti del mese di ottobre continuano le iniziative per i più piccoli all'interno della biblioteca dei ragazzi di Serra Nuova. Questo sabato l'argomento sarà la lana, mentre l'ultimo appuntamento di venerdì 30 ottobre riguarderà la festa di Halloween. Sabato prossimo invece sarà il momento della lavorazione della lana, quindi il pomeriggio si apre con una lettura animata, con il gruppo delle Gomanti e proseguirà poi con l'Alessandra Gentile che insegnerà ai ragazzi presenti le tecniche dell'uncinetto per realizzare dei manufatti anche divertenti, piccoli gioielli, cose da indossare e per passare insieme un pomeriggio alla riscoperta di queste tecniche delle nostre nonne che si stanno perdendo e che quindi è giusto che i ragazzi cominciano a riappropriarsene. Il ciclo di appuntamenti si concluderà venerdì prossimo, sempre alla biblioteca dei ragazzi, il pomeriggio, dopo un martedio alle 4 e mezzo con letture e giochi dedicati alla festa di Halloween che è il giorno dopo. Iniziativa ormai al termine per il mese di ottobre, i bambini dovranno solo aspettare i prossimi mesi per partecipare ai molti appuntamenti che si svolgeranno nella biblioteca dei ragazzi.